ciao ragazzi benvenuti allora ieri ho fatto un video che purtroppo non è andato a buon fine perché non ho schiacciato il pulsante di registrazione e quindi mi sono fregato tutto il video ero convinto di registrare tutto in un botto praticamente il trattamento che gli ho fatto una una spolverata veloce di ossalico su sublimazione e giusto perché avevo riscontrato piccoli problemi con un po di varroa ho visto che ce n'era un po allora ho detto ma si dai giusto mezzo grammo lo facciamo ho fatto un mezzo grammo ad arnia questa è quella la giusto per mantenere diciamo un po bassa la malattia della dell'acaro via la presenza dell'acaro quindi ho deciso di fare questo piccolo di video per aggiornarvi giusto perché prima vi avevo detto che facevamo poi il trattamento antivarroa poi ovviamente non è uscito sul canale quindi niente volendo posso magari per i neof di spiegarvi due cose al volo e che cosa ho fatto ho estratto semplicemente il telaio questo qua l'ho tolto completamente adesso ci mettiamo qui da parte così vediamo poi insieme se c'è qualcosa che è caduto già infatti qualcosina è caduta con qualche piccolo qualcosa è venuto è venuto via allora quindi cosa ho fatto rimosso il telaio semplicemente eco sublimatori li ho messo mezzo grammo sono andato a infilarlo dentro all'interno dello sportellino rimuovendo lo sportellino quello lì che vedete l'ho alzato giusto l'ho alzato via l'ho tolto anche quello la non ce l'ha dall'altra parte questo qua l'ho tolto e poi li ho infilato praticamente il sublimatore all'interno quasi a metà più o meno nella zona dei telaini che stanno in questa zona di qua di qua c'è il diaframma e quindi i telaini stanno in questa zona qua e cosa ho fatto l'ho messo lì per qualche l'ho fatto quasi per mezzo minuto tanto non è che sia una volta fatto il fumo e a posto quindi la sublimazione ha fatto effetto ha dato diciamo il suo colpo diciamo giusto per anche per farle un po abituare a non andare subito la botta decisa comunque sono sbalzi termici non indifferenti e comunque vapore non è che proprio no non è bellissimo via quindi cosa ho fatto mezzo minuto mezzo grammo e via basta oggi il risultato è questo non è che sia caduto granché non ha avuto molto effetto subito ma comunque adesso poi la prossima volta gli sparo un bel grammetto qui non è non è caduto granché anche perché quel poco che è caduto magari si posso inquadrare qualcosa forse no vediamo se riesco a inquadrare questa questa qui praticamente eccola qua mettendoci il dito sono riuscito a vediamo se riusciamo a metterla un po a fuoco no eccola comunque quella navarroa è caduta vuol dire che mezzo gramma non è abbastanza bisogna dargli un po di più sicuramente perché comunque deve avere il suo effetto via quindi adesso il telaino c'è il vassoio sotto lo faccio che toglierlo tanto ormai ho visto più o meno che cos'è caduto l'ho fatto ieri a ieri mattina e adesso è passato un giorno praticamente intero già si dovevano si devono vedere i risultati qua invece qua niente quando possiamo vedere una bella mazza perché è arrivato un po di vento mi ha portato via tutto va bene così andiamo controllare solo sotto qua e le formiche hanno fatto piazza pulita comunque mi fido dello stesso effetto che ha avuto l'altra sicuramente ha avuto anche questa niente quindi siamo siamo mezzo grammo non devo aumentare un po la dose la prossima volta faccio le cose con calma anche per abituarle non dargli troppo troppo stress via e magari la prossima volta vi faccio vedere sicuramente come come lo faccio un po fatto meglio così almeno vediamo come farlo adesso poi in questi giorni controllerò l'aprirò l'arnia e controllerò la situazione comunque come a parte che all'entrata del già all'entrata qui si può vedere qualcosa si può vedere se ce l'hanno no perché comunque sono dei bei punti nazi rossi si vede già quando è stato avanzata la varroa perché sennò è una roba completamente così minuscola che l'occhio umano non è che lo vede facilmente adesso qui non vedo niente a parte che queste qua sono api che vanno a prendere e mettere miele sono di solito sono anche più sane diciamo delle altre quindi sono quelle che hanno più forze che si sentono di uscire a quanto pare questo è un'idea mia e ragazzi sto solo dicendo non prendete la lettera quello che dico a volte ci si scherza anche sopra e poi magari perché no magari sono più forti e si sentono di uscire mentre altre stanno più dentro perché comunque la varroa ragazzi tira via un po di vitalità l'ape la rende molto debole che non credo che abbia poi la forza di uscire e volare via cioè comunque pensandoci è un po così fa ridere quell'ape che tutte quelle che entrano le attacca come dire tu chi sei tu chi sei è la guardiana della situazione quella la ma adesso si è un po distratta perché se non mi sono avvicinato col cellulare boh ragazzi da ci vediamo poi in un prossimo video mi mettete like se il video vi è piaciuto continuo a mettere ogni tanto qualche video che spero vi possa fare piacere al prossimo ciao a tutti